Ciao ragazzi, sono Shark2000, questo è il mio primo gameplay, spero vi piaccia E oggi vi illustrerò come costruire una casa in legno Allora, potete, allora, iniziare così Prendete delle assi di betolla Allora, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Va bene cosa? Allora, adesso, dovete farlo alto 1, 2, 3, in parica 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfetto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, adesso Qua, questi spazi che sono rimasti, dovete fare così Allora, mettere legno di abito Cos'è? Poi, anche qua Ok Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfetto 1, 2, 3 1, 2, 3 Adesso Prendete degli scalini di betolla Allora Allora 1, 2, 3 4, 5 Mettere su tutto il tetto della casa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 Perfetto Adesso Metterlo anche Aspettate Qua Fuori Cos'è? Perfetto Cos'è? Perfetto Adesso Poi Mettere Questo E poi Qua Questo voi potete anche taglierlo Come volete voi Ok 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 Cos'è? Ok Adesso Qua Al centro Mettiamo Un'asse Di corce Perfetto Adesso Dobbiamo fare La porta La porta La metteremo qua Allora Mettiamo subito Le torce Perfetto E fate E chiudite Le asse di corce Allora io faccio con le asse di corce Ma poi voi potete fare come volete La scelta vostra Allora Prendo Le scale Ok 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 Qua sopra E poi Anche qua le torce E poi Vabbè Potete decorare Come Preferite Come meglio Volete voi Poi Se Allora io Non decorerò Questa La stanza Però se voi volete Vedere come Decorarla Allora Ditemelo nei commenti E io Nel prossimo video Ve lo farò vedere Ah e soprattutto ragazzi Commentate E mettete mi piace E soprattutto iscrivetevi al mio sito Allora Qua Anzi Mettiamo Qua Adonnes Qua Ok Perfetto Adesso Prendere Di nuovo Le assi di legno Le assi di corce Fare Così Mettere Solo sulla Parte Che spunta fuori Così Vai Uno Due No Tre Uno Due Tre Prendere la torcia Metterla Ai lati Vai Qua 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 Perfetto Adesso Dovete Allora Adesso Entriamo in casa Allora Apriamo Un passaggio segreto Passaggio segreto Diciamo così Allora Mettiamo Scala Nel passaggio di grito Potete anche Non farlo Cioè Passaggio Poi Nella stanza di grito Potreste anche Non farla La scelta è vostra Però Se volete avere più spazio Se è comunque Una casa piccola Allora Fatela Poi anche per A bellino No Allora Così Dove andare bene Le torce Le torce Relati Perfetto Adesso Prendere Il Allora Ok Va bene Cos'è Poi Uscite Adesso Questa È la casa Poi potete anche Fare cos'è Scusate Non si tranne La stazionata Dove Cacchio Ok La stazionata Non c'è Perfetto Ehm Bah Facciamo Quelle recensioni Allora Mettete Qua Adesso Non tovate Le recensioni Però Fingite Come 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 se Lo siano Allora Mettere Qua Ai lati Quei qua Là Mettere il cancello E fare cos'è Qua Mi pare che ci deve essere il cancello Ecco Questa È la Nostra Casa Adesso Ragazzi Se il video vi è piaciuto Ehm Commentate E E Commentate E Iscrivetevi Al sito Beh Peraggettotto Ciao arrive